e anche oggi ritroviamo il nostro amico biblista padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche. Bentrovato padre Ernesto, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te Anna Maria, ai nostri tecnici e soprattutto alle nostre amiche e amici che ci seguono. Siamo nel cammino d'obbligo per arrivare e per giungere alla Pasqua, questo periodo è considerato un tempo penitenziale di sacrifici, di rinunce, invece oggi la liturgia ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce. Sì perché effettivamente se dovessimo usare un segnale stradale per la nostra Quarisma non metterei quello del divieto, quello del dell'obbligo, ma metterei quella indicazione verde, quella freccia indicativa. Segui la freccia, l'abbiamo visto domenica scorsa, qual è questa freccia? Alza lo sguardo a Dio padre, lui ti dà sempre il suo spirito con la mediazione del figlio per portarti. E questa pagina di oggi, la pagina della trasfigurazione, a cui io darei un titolo, camminare nella fede. Perché Gesù, il testo di oggi, stiamo attenti perché l'incipit della liturgia dice in quel tempo, ma in realtà Matteo scrive sei giorni dopo. È importante quella notazione, peccato che venga a cancellare, io consiglio sempre di rimetterla al suo posto, sei giorni dopo. Perché Matteo vuole mettere questo sei. Perché c'è stato sei giorni prima una lunga catechesi di Gesù che ha culminato in quella espressione, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sono le famose indicazioni per il cammino da fare insieme a Gesù. Dopo questa catechesi, sei giorni dopo, cioè sette meno uno, ormai sappiamo, sei è il numero di non perfezione, il sette avverrà solo con la Pasqua, Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni su questa montagna alta della trasfigurazione. È il famoso monte Tabor. Perché mette quei sei giorni? Sull'ombra il nostro Matteo, ovviamente, sullo sfondo, come al solito, mette il libro dell'Esodo, rilegge l'Antico Testamento. Mosè è salito sul monte e dove, ha dimorato per sei giorni, al settimo giorno il Signore, dice a Esodo 24, lo chiama in mezzo alla nube. Avremo anche qui una chiamata. Notate come Matteo rilegge le antiche scritture, quasi a voler collegare la trasfigurazione con l'antico episodio dell'Esodo. Tra l'altro solo Matteo ha questa indicazione in 4-8, un monte molto alto, che era tornato nella terza tentazione, se ricordate bene, domenica scorsa. Un monte molto alto ci sarà anche alla fine, quando al capitolo 28 Gesù darà il mandato ai suoi discepoli. Direi che le tre scene si somigliano, perché siamo all'inizio con la tentazione, all'inizio del Vangelo. Gesù non piega la volontà del Padre, ma si adegua. Poi siamo adesso nel momento della vigilia del Ministero di Gesù, che va a Gerusalemme, e alla fine l'ultimo mandato, che è una pagina aperta. La trasfigurazione è quasi un ponte di collegamento tra le tentazioni e il mandato finale. Che cosa significa in Matteo questo episodio? Perché è importante il contesto. In Matteo la trasfigurazione è il culmine dell'azione formativa che Gesù ha fatto sui suoi discepoli. Perché questa pagina è l'unica volta, sarà l'unica volta che Gesù davvero vuole infondere fiducia e speranza ai discepoli, insegnando loro che la vita prevale sulla morte. È un anticipo della Pasqua. Gesù vuol far sperimentare ai tre discepoli l'esperienza molto forte della forza della Pasqua. La Pasqua ha una forza incredibile. Gesù ha annunciato la propria morte, apre questo mistero come una sorta di finestra di luce. Attraverso quella via, anche se dolorosa, arriverà una luce immensa. È quello che hai detto tu all'inizio, Anna Maria. Oggi è una giornata piena di luce e questa è la trasfigurazione. Una luce che ci invade, ci circonda. Perché come Dio ha parlato a Mosè nella nube, così oggi il Padre parlerà ai discepoli. Ecco perché è interessante che i discepoli finora hanno assistito ai grandi insegnamenti, a opere prodigiose, ma l'hanno sempre visto come un uomo. È l'unica volta in cui viene offerto loro di vederlo trasfigurato o trasformato. Sotto c'è questo verbo metamorfeo, la metamorfosi. Gesù è il figlio di Dio, è Dio. Ecco perché sia Matteo che Marco parlano di questa metamorfosi, cioè un mutamento di aspetto. Ma attenzione perché Matteo, rispetto a Marco, aggiunge una frase interessante. Il suo volto, quindi sottolinea il volto, brillò come il sole e le sue vesti divennero bianche come luce. Quindi Matteo sottolinea il volto, Marco sottolinea le vesti. È chiaro che qui Mosè c'entra di nuovo, perché Matteo ricorda un parallelo. Mosè, dopo aver incontrato il Signore, si accorge che la pelle del suo viso è diventata raggiante, a motivo di aver parlato col Signore. E qui nel testo ebraico c'è una curiosità che vorrei dire alle nostre amiche e ai nostri amici. Il testo ebraico usa un verbo, Karan, che ha le stesse radici della parola corno. Ecco perché il povero Mosè da Michelangelo viene raffigurato con due corni in fronte. Una cattiva esegesi. In realtà avrebbe dovuto fargli, se gliel'avessero spiegato, una enorme luce, una sorta di aureola di luce, perché era diventato luminoso il suo volto a motivo dell'esperienza con Dio. La gloria risplende ora in Gesù. Ecco che cosa avviene. E i discepoli davanti a questa gloria ne restano abbagliati, pur essendo avvolti nella nube. Quindi il mistero della trascendenza è occultato. È una nube luminosa, è uno simono. E appaiono due grandi personaggi, il grande legislatore Mosè e il grande profeta della purezza Elia, che pure hanno avuto esperienze simili poi anche all'esperienza di Pietro quando si è scandalizzato che Gesù andava a morire. Gesù nella opposizione di Pietro ha visto una tentazione. Gli ha detto vai via Satana, tu che sei un tentatore. Qui invece Mosè, nell'episodio che c'è sotto, ha dovuto mettere in conto il rifiuto del popolo. Ricordiate il vitello d'oro, il rifiuto della trascendenza di Dio. C'è sempre una crisi. Elia ha avuto la crisi contro la regina Jezabel, ha avuto paura di questa donna così crudele ed è arrivato fino al Sinai, dove la voce sottile di silenzio gli ha parlato. Matteo evoca tantissimo l'Antico Testamento, davvero da buon giudeo legge tutte queste pagine. Ora qui invece c'è un Gesù glorioso, luminoso e Elia e Mosè conversano. Molto bello il verbo, siun laleo. Parlano insieme, discutono insieme, stanno discutendo, solo Luca dirà, del suo esodo. È una visione più che fisica e intellettuale. Mosè ed Elia che dialogano con Gesù, la legge e i profeti portano a Gesù. Pietro, reagisci in un modo strano. Signore, è molto bello stare qui. Farò, notate questo singolare, farò, dice Matteo, tre tende. Ma la tenda non è quella che pensiamo noi. La tenda era un vero e proprio appartamento, diviso in tante zone, la cucina, la zona delle donne, degli uomini, la parte antistante. Pietro vuole da solo costruire addirittura tre. È una reazione spropositata. Che cosa c'è dietro questa reazione? La tentazione di un messianismo trionfante. Il tentativo di voler fermare quel mistero che deve arrivare alla luce, però passando per il mistero della passione e della croce. Quindi è importante. La nube li adombra e il padre parla. Questa volta, non come al battesimo ha parlato a Gesù, questa volta parla a loro e gli indica Gesù. Questo è il figlio mio, quindi è il figlio di Dio, è Dio, è l'amato nel quale io mi sono compiaciuto, quindi l'ho scelto come mediatore. Ascoltate lui. E il verbo è all'imperativo presente, a dire ascoltate e continuate a ascoltarlo. Quindi ascoltate lui è un imperativo forte. Sembra che richiami quell'ascolta Israele dello Shema di Deuteronomio 6.4. Quindi il padre non solo riconosce il figlio, ma lo ha dato a noi e ci chiede di ascoltarlo, di appoggiarci alle sante scritture, perché il figlio è il Vangelo del padre. Qual è la reazione dei discepoli? Dapprima cadono con la faccia a terra, poi è Gesù che si avvicina e li tocca. È molto bello, il testo greco letteralmente dice così, ascoltando i discepoli caddero sulla loro faccia e te mettono molto. Ma si avvicinò Gesù e toccandoli disse, risorgete, alzatevi, smettetela, dite bene. Sono davvero due versetti che hanno due movimenti opposti. I discepoli caduti faccia a terra, Gesù li farli alzare e passano dal grande timore al non temete. Ancora una volta, vedete, è un simbolismo pasquale. Gesù vuole farli capire che dopo la morte ci sarà la resurrezione. Gesù li tocca come ha toccato tanti ammalati, il lebroso, la mano della socia di Pietro, i due ciechi, le monroissa. È un Gesù che ci tocca e toccarci vuol dire davvero la fede, mentre la paura è il contrario. Siate alzati, siate risorti. Il verbo nel testo greco è al passivo, quasi a voler indicare quel dinamismo della resurrezione che viene dall'alto, non dagli uomini. È un evento davvero molto bello. Che cosa vuole dirci con questa gloria luminosa che appare sul monte? Una garanzia della presenza e anche dell'approvazione di Dio. Alla fine, dice Matteo, Gesù resta solo, solo per dire che cosa? Nella sua forma umana, quotidiana, rientra in quella ferialità. È l'unica volta che Gesù si è trasformato. Bisogna fare una scelta, bisogna fidarsi di Dio, bisogna seguire Gesù per la sua strada. Ecco che abbiamo detto all'inizio, camminare nella fede. Noi dobbiamo camminare nella fede, fidandoci delle scritture dove c'è la parola, dei sacramenti, di quell'amore che la Chiesa ogni giorno ci chiede. Solo così possiamo diventare pescatori di uomini, cioè testimoniare agli altri la grandezza di questo amore pasquale che qui viene anticipato, ma sarà vissuto non al sesto giorno, ma al settimo, cioè nella Pasqua del Signore. Ed è bello questo cammino nella fede che facciamo insieme a te, soprattutto in questo periodo, quello della Quaresima, in cui non ci abbandoni e guardiamo questo segnale stradale blu che indica l'alto. È così che dobbiamo guardare. Effettivamente, vedi, la Quaresima ha questa linea rossa. Dobbiamo sempre guardare a qualcuno, il padre, e il padre oggi ci ha detto di guardare al figlio. L'ha fatto anche la madre di Gesù quando a Cana ha detto fate quello che egli vi dirà. Indica sempre la presenza di Dio. Dio è in mezzo a noi e il nostro sguardo deve essere sempre rivolto a Lui. Grazie padre Ernesto, a nome di tutti, coloro che ci seguono e alla prossima. Buona trasfigurazione, buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom.